Buongiorno ragazzi. Buongiorno professoressa. Oggi interrogo. Vediamo a chi tocca. Raga ma dov'è Simone? Oggi tocca a lui. Hai capito l'Arnoldi è rimasto a casa l'infame. Sì ma io non ho studiato un cazzo. Ricomincia il giro quindi Arnoldi Simone. Prof Arnoldi è assente. Il vostro compagno vi ha fatto un bello scherzo. Ma boh avrà perso l'autobus prof. Intanto andiamo in ordine alfabetico. No come ordine alfabetico? C'è un attimo. Baretti tocca a lei. No prof. Venga caro. Ho capito l'ordine alfabetico però toccava a D'Arnoldi c'era programmata. Povero Rachelo. Forse magari vuole offrirsi volontario o qualcun altro. Grazie Baretti sei un grande. Oh non scherziamo a me mi hanno sturato due volte. Lei più di altri dovrebbe studiare sempre. Attenzione perché Arnoldi mi ha mandato un whatsapp e dice che arriva e è un po' in ritardo. Vado a vedere se è in bagno. Arnoldi oh ma ci sei pezzo di merda. Ma cosa gridi Arnoldi non c'è avrà bigiato. Si starà fumando le canne con i suoi amici. Bigi anche tu no? Ma va io sono Zamberletti appena ricominciato il giro per tre mesi non studio niente. minchia le sei. Non mi sono mai alzato così presto in vita mia. Guarda che cielo terzo. Ma senti che silenzio. Ciao ma. Simone sei già sveglio? Si oggi ho un'interrogazione importante e voglio fare bella figura. Dai un bacino a mamma. Vado. Ciao ma. Voglio arrivare un po' in anticipo così mi bevo un buon caffè ripasso tutto con calma. Uè Arnoldi. Ciao ragazzi. Cosa ci fate già in giro a quest'ora? Non siamo ancora andati a letto. Oh bella Arnold. Facciamo una brasa. Raga non mi tirate in mezzo che oggi devo andare a scuola. Da quando studia se la tira. Ma ci vediamo oggi pomeriggio. Dai Simo. Fai sega anche tu. Ma va ho studiato. Entra alla seconda ora. Faccio su un cilum. Ti faccio vedere le tette Arnoldi. No dai sono interrogazioni programmate. Arrivo. Non posso fare l'infame. Sentiamo un po' Einstein. Dimmi. Cosa ha imparato dopo tutto questo studio? Un sacco di roba. Soprattutto sui vulcani. Non so se lo sapete ma su quest'isola c'è un vulcano mega gigante. Infatti presenta una vegetazione per lo più brulla. Parliamo di flore ok? E rocce e rocce e soprattutto scogli e acuminati che sono tipici di qui. Scalfiti dal nostro bello oceano pacifico dove ogni tanto una foca decide di fare del surf. Cosa c'entra la foca? E questa parte l'ho inventata. Però ho scoperto che qua sotto nel cuore del vulcano c'è una situazione non bella ragazzi. Tutta la pilli, fuoco, c'è roba che brucia, un sacco di magma, arombi, giochi di luce, tutto zig zag. E' un pericolo potenziale per tutti noi. E quindi vado a dirlo a tutti. Quanta fretta. Fermati ancora cinque minuti no? Ma adesso che ci penso? Ma noi non ci conosciamo. Questo manco la scuola lo può salvare. Prendetelo. Arnosi! Aiuto! Ma perché fate così? I serpenti mangiano le iguane! Cosa? Sveglia! Non te l'hanno insegnato questo a scuola? No! Biologia! La facciamo l'anno prossimo! Oddio! Era solo un sogno! Certo incredibile! C'era proprio questa stessa luce qua! Questo cielo terzo! Ciao ma oggi sto a casa da scuola! Ma non hai l'interrogazione? Sì ma ho fatto un sogno e mi sa che proprio è meglio se me ne sto a casa oggi mamma. Sbrigato! E i tuoi compagni? Avranno studiato anche loro sicuramente! Sì il vulcano praticamente è fatto proprio tutto con una forma di vulcano che non c'è proprio dubbio che lo è! Un vulcano con che vulca... Baretti vergogna! Lei non sa nulla! Le do due! Tutto sommato mi alza la media! Dopo Baretti Cataldi! Oh no! Catald! Non sai niente! Cataldi! Allora? Vi giustifico prof! Sotopalato!